Cari comitati ambientalisti, associazioni di cittadini e genitori preoccupati per il territorio e la salute dei vostri figli, martedì ci sarà un evento alla Camera che riguarda direttamente voi, ma voi non siete stati invitati. I lobbisti più importanti d'Italia si riuniranno per parlare di voi e affinare i loro mezzi per ridurvi al silenzio. Non ci credete, vero? Eccolo qua. Cos'è il NIMBI Forum? Il NIMBI Forum è un osservatorio permanente che studia le contestazioni alle inutili e dannose opere italiane. In pratica è il più dettagliato database che monitora le azioni di protesta verso le discariche, inceneritori, cementifici, impianti a biomasse, rigassificatori, ma anche le grandi opere come il TAV o il TAP. Insomma, la lobby si fa squadra e schiera nuove strategie di attacco e di consenso per zittirvi e ridurre al minimo le vostre proteste. Martedì presenteranno qui alla Camera dei Deputati i risultati del rapporto annuale, ospitati da chi? Dal Partito Democratico e dal Ministro dell'Ambiente. Avete capito bene, proprio quel Ministro che dovrebbe tutelare l'ambiente invece si fa portavoce di chi l'ambiente lo distrugge. Per questo noi vi lanciamo una proposta. Dato che si parla di voi, venite alla Camera martedì. Andate sul sito www.nimbiforum.it, registratevi e venite martedì alle ore 15 all'ingresso principale di Montecitorio. Noi vi accoglieremo lì e andremo insieme a fermare i lobbisti. Mi raccomando, la giacca, perché qui all'ambiente non ci tengono, ma alla forma sì. Noi ci saremo, vi aspettiamo. 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 Noi ci saremo, vi aspettiamo.